Ciao a tutti! Benvenuti in questa nuovissima puntata di MarioCast 8DLast. Ciao a tutti! Sono sempre io a fare MarioCast per voi e oggi penso proprio che sarebbe una delle ultime puntate. In realtà mancano ancora altri tre percorsi, però con gli altri non esca. Forse potremmo rifiare se in qualche mondo dipende da come si mettono le cose. Allora, l'importante è non scegliere lui, perché lo sceglierebbe. Ma Sara secondo te va bene quello lì? Cioè l'ho già indossato in una delle tre frequenti percorsi. No, non l'hai mai messo. Allora, io voglio cambiare. Tanooki! Tanooki! Questi Tanooki ci perseguitano ogni volta, tipo... Desi! Desi da qua... No! Ha scelto l'abitante, maschio! Ma che sta succedendo? Non lo so, credo che io svegliato. Perché ha scelto il tipo timido? Ma stai impassando i giochi! Probabilmente! Ecco, Desi! Ah, dei sui figli Desi io vado sul pitch. Va bene, il pitch è normale, perché mi sta un po' inquietante quella desi che sta... Ma è inquietante! La tubocicletta! Vediamo adesso quella tubocicletta! Bene, io... La novità del scotterbitorio, raga, ecco! Io ho optato per un carissi... Beh... Io l'ho optato per un carissimo GoPro, cioè che mi piace molto e... Non la mia pazzia! Raga, la mia pazzia! Oh Dio! Sì! Che disfunza! Sì! E what's up! E raga, oggi appunto dovremo fare il cosiddreato finalmente... Il... Trofeo speciale! Finalmente, dopo tanto tempo, andiamo a fare il trofeo speciale! Ma c'è anche una qui, l'altra pista del cobaleno? Sì! Perché l'altra cosa avevamo già fatta una, io tipo... Barcello Nuvolante! Questo percorso mi piace tantissimo perché... Ha un certo punto la musica di Super Mario Galaxy! Forse magari dovremmo mettere la Rosalinda! No... Però vabbè! Percorso principesse! Tutto basato sulle principesse! E se le principesse diventassero principesse di Disney, cioè queste qua? Sarebbe molto bello, sai! Secondo me immagina tipo... No, aspetta no! Immaginare al gobo di Notre Dame sopra un gocatto non mi piace proprio! Aiuto! C'è però la tubocicletta è stranissima! Io invece ho questo bellissimo gocatto che... Che deve essere quello originale! Sì, mi piace... È un vero peccato che non possiamo farvi sentire la musica di Super Mario Galaxy che è bellissima! Perché è per lo stesso motivo per cui io non devo cantare e non possiamo farvi sentire alcuna canzone di questo mondo! A parte con le là! Sto cadendo tra le nuvole e mi ha preso un copo! Ecco perché si chiama Marciano Nuvolante perché è nuvoloso! Oddio! Che tempo fa oggi nuvoloso! Sì! Uno vi stava colpendo e poi io sono andata da questo e l'ho colpito con un guscio! Ma se ci salta sulle nuvole, le nuvole vanno più giù! Ma se almeno quanto sarebbero morbide le nuvole? È bellissimo! È tipo la neve! Eh infatti... Forse magari è anche più morbide la neve! Sì, può da sì! Perché io una volta l'ho provata la neve e proprio... Da noi il nonno nevica tantissimo! Infatti! Ogni 50 miliardi di anni forse! Se no fa la grandine che non è per niente piacevole! Infatti! Che è pure antipatica perché fa tutto 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 il giorno! Cioè tipo pop con! Eh sì! Tipo impazzita! E poi... Perché ci stanno poi poi oggi in continuazione durante l'inverno e non è per niente caso! No! Ne sei caduta! No no no! Fulmine no! Fulmine no! Fulmine no! Fulmine no! Fulmine no! Ma allora quindi questo si piaccia che siamo ancora al trofeo fulmine tipo! E qui è pieno di fulmini ogni volta! Cioè per giornata fulminosa! Fulmine! Oggi abbiamo avuto un colpo di fulmine! Fulminosa! Basta! Un colpo di fulmine! Queste battute proprio da... Da Nobel sono bellissime! Da Desi! Allora passiamo a Desi! Parliamo un poco di Desi! Allora Desi la passerà per la prima volta in Super Mario Land che adoro! Sara gli ho mandato una cosa! Una cosa molto... Molto simpettica proprio! Blu! Molto blu! Fulmine che cosa avete di male! E quante banane! Oddio le banane oggi si stanno assicurando! Oddio le banane oggi si stanno assicurando! Oddio! Ma in ogni puntata! In ogni puntata! Ma anche dal primo! Sono le banane! Tutte le banane! Banane! Tutte le banane del mondo! La torta sono da Filippini! La banana... La banana... La banana... Il libro delle banane! Si! Ho letto un libro... C'era tipo una cosa... Sesta! Dai! Meglio dell'ottava che sono... Io arrivo sempre... Baby Peach! Quindi è... Baby... Peach! Baby Peach! Io sono... Baby Peach! Vabbè! Baby Peach sta super sotto l'idea! Probabilmente... Mi supererà... Desetto di Tartosso! Desetto di Tartosso! Nella scorsa puntata c'era Tartosso! Quando? Ma che animale è? Che cos'è Tartosso? E' infatti! E' un din... E' un dinosauro! E' finito! Ecco! Povero! Un cuba! Ecco! Dovrebbe essere proprio una tartaruga! Ma... Uno scherzo di tartaruga! Ma le tartarughe dentro non sono mollicce! San San San! Waluigi! No! Sei Waluigi! No! Cosa è successo? Sei Waluigi! Oddio! Grande! Waluigi! No! 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 Mi supera Waluigi! Waluigi cattivo! Waluigi cattivo! Waluigi cattivo! Cosa cattivo! Cosa mi sta cercando di mangiare? Perché mi ha dato una moneta? Aiuto! C'è pure una pianta piragna! C'è Lemmy! No! Perché ci sono piante piragnoscheletiche! Ma sono delle tante! E infatti! Non hanno il corpo! Aiuto! Ma stanno succedendo cose troppo strane! Ma è tutto così strano! Il Mario Kart! Stava! Buongiorno! Vuoi una banana? Il tartosso dice... Dice di no! Oppure dice crack! Chi c'è al dito di te Sara? Boh! Chi c'è al primo posto? Non lo so appunto! Vedo qualcuno che... Lemmy! Grande! Proprio! Bellissimo! Questo Lemmy! Quello no! Ma io non me l'ho raccolta! Mi ha rubato la banana! Che trovo dietro! Don... Sarate! Francesca! Don... 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 Lemmy! Oddio! E' la cosa più terrorizzante che abbia mai visto! Ma lo so glielo alla notte! Perchè basta immaginando tutto! Sara secondo me farei un collagio lo appenderai! Aiuto! Lo appenderai nel video! Ma quante piante ci sono? Aiutatemi! Piante le tessiche... Orse! Orse! Orse sì! Che bisogna usare per fare determinate cose! Per far uccidere un Tod? No! No! Immagina tipo Minecraft con i personag... Ma Minecraft con i personag... Ma Minecraft con i personaggi e la grafica di... Sei vuoto easy! Fantastico! Sono arrivata a sesta senza saperlo! Ed è un problema! C'è ancora il mio cuscino! No! Ma perchè ha suonato il coso? Cos'è? No! Prima mi capita sempre... Sono ottava di nuovo! Benissimo! Da prima oggi sono arrivata a ottava! actusca! E io che pensavo di avere una partita finitqua! Eee! Eee! Nu have una banana con i totosi... Chissà se se me la mangia ma... I totosi se mangiano una cosa... Com'è... Dovebbe finire.. Si dovrebbe vedere tutto quanto! Ho ucciso un tattosso, cioè l'ho buttato addosso. Hai ucciso un tattosso. Nella scorsa puntata io avevo tipo ucciso un gomba col guscio. Ottava. Fantastico. Molto. Che cos'è il Molto? Te l'ho detto, mi sta seguendo. Perché no, lui sta bene. E' difficile sta sotto. No, perché è una linda. Chi è Molto? Molto è uno dei posterotti, fratello di Lenny. E' di Ludwig. Don che Lenny Morton ha due teste. Sai. Questa volta. La prossima cosa. Questa è la terza, vero? Siete cose troppo scioccanti. Qui dentro, perciò non ci piace tanto fare questi video. L'ultima volta non abbiamo potuto di fare. Che cos'è? Cassino di qua. Chissà, visto che appunto siamo più o meno alla fine. Pure lui. Il premio è più difficile, qual'è? E' campanella. Assolutamente campanella. Quindi. Troppo difficile. Se mai faremo il campanello io. Seguo a Luigi ancora. Se mai faremo quello trofeo campanella io mi do robesce da Tanuki. E' una sfida. E mi do robesce da Tanuki che ha sempre dato fastidio in questi anni. C'è tipo questa specie di statua. Di statua. Che dà pugni. In giro. Ma non ci sono dei lati. Lancia la banana a quel coso che dà pugni. No. Ma tutto con me. Ma cos'è? Il mondo ti è capitato. Ti è capitata. Quindi posso usare qualunque cosa voglia a mia venenza. Beh ecco. Puoi utilizzare tutte le altre cose. Per colzoma casuali. Bene che mi stanno andando tutti via. No. La bomba. C'è proprio guscio rosso più guscio blu. Chissà che cosa riusciate a avere un minestrone. Tipo aiuto. Hai visto un guscio? Non c'è un guscio. No. E dovrebbero fare. Che so. Rosa viola. Gallo. Blu. Ieri c'è un guscio rosso. C'è un guscio verde. Un guscio rosso. Fungo. Poi mi sembrava che sto andando velocemente e non arriverò mai mai prima. Tranne secondo me per i miei trofei. La chi tu? Sei la chi tu? La fessima più decente di otto. Secondo posto. È ovunque. È ovunque. È ovunque da fare. È ovunque. È ovunque. Pistacco baleno. Quella era proprio dedicata a questo. Anche qua c'è una musica bellissima. Beh insomma non proprio. Nell'inizio è un rock la musica. Poi dopo c'è tipo una parte bella. Vogliamo specificare che è in 100 cc perché non si sa. Yeah. Come sono partita bene proprio. Yeah. Io in 200 cc c'è proprio tipo l'ambilinto totale questo. Veramente? Sì. C'è proprio tipo tipo ti ti perdi. C'è proprio tipo nel senso che che tipo per esempio cadi in un'altra zona. Sì. Ma per se cadi hai la possibilità di cadere in un'altra zona. Devo provare la città. Oppure ti prenderà direttamente la kittù. Le whatsapp. Grazie. Ti prende i whatsapp. Oddio ma che cos'è? E' serranissima questa cosa. Cosa? Oddio sono caduta per andare a finire il nostro piste. Hai ragione. Il guscio blu. Ringraziamo il nostro carissimo guscio blu che ci aiuta sempre. Dopo nei momenti in cui vogliamo essere prime ma non sarà mai. Infatti non ho mai preso un guscio blu perché non sono mai stata prima. Yeah. Guscio rosso. Ma che cos'è la battita dei gusci questa? Un guscio per tutti la dobbiamo chiamare. Che poi alla fine c'è in Mario Kart puoi anche evitare di mettere due... Cioè puoi anche evitare di mettere tutta la battita completa in senso di piste. Puoi mettere anche tipo solo la prima e la seconda per far capire come è fatto. Ma che serve la tromba tipo? C'era tipo quando ti arriva il guscio blu. La russi e il guscio blu si rompe. Ah ma solo il guscio blu? No funziona anche che so tipo quando ti è proprio vicino a qualcuno. Sì tipo in questo caso che mi stava uccidendo questo coso. La russi e lui appunto aveva struttito da... E ne va via. Miau. Un caramaco. Il guscio blu a che serve? Il guscio blu? Ah tipo ti consiglio a utilizzarlo anche in quel momento. Cioè ti voglio prendere oggetto da qualcuno. Benissimo. Ah ma mi ha fatto stare invisibile ora perché? No perché vabbè è così. Che sensuale? Quinta! Oggi speriamo che arrivi un po' di... Quinta! 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 Lucky do! Lucky do! Lucky do! Walluizzi! Vedi proprio due, tre, quattro, cinque questi belli allineati. Vai ridottati. Chissà se c'è una scena di Walluizzi. Non credo. Spero. Bene! Pizza che lancia... No! C'avevo gussi, assalto gussi. Questo è tutto un guscio. Il mondo è il guscio. Mondo russo. Il guscio mondo. Sì, ma il nome è di un supermercato. Aiuto! Guadagni! No! Oddio! Come l'ho superato? L'ho schivato. Questo è un particolare, un tipo legale. Una ballerina. Una ballerina. Una ballerina fermata. Nuovo... Nuovo velicolo. Velicolo! Che dovrebbero essere delle ruote. Classici rossi, normali. Non sono tanto, tipo wow. Tipo wow. Allora, raga. Speriamo davvero che questo video è il Mario Kart 8. Dell'Azio vi sia piaciuto. E... Ciao! 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 Grazie a tutti.